E ancora preoccupazione in Abruzzo per quanto riguarda l'arrivo negli ultimi giorni di nuovi migranti dai paesi africani. Ai problemi già noti sul territorio comunale di Pettorano sul Gizio, in provincia di L'Aquila, nuove segnalazioni giungono dal centro di accoglienza straordinario di Viale Cristoforo Colombo a Moscufo, dove a differenza dei centri permanenti per i rimpatri, i cosiddetti CPR, per gli ospiti sono previste solo forme di vigilanza e controllo, senza procedure di costrizione. Nel CAS del piccolo paese in provincia di Pescara, il 22 luglio scorso sono arrivati 10 dei quasi 2.500 migranti sbarcati dal 20 al 26 luglio sulle coste italiane. Di queste 10 persone, tutte di nazionalità tunisina, 4 si trovano in quarantena obbligatoria fino alla serata del 30 luglio, mentre 6 di loro hanno fatto perdere le tracce già nella nottata del loro arrivo a Moscufo. Per questo il sindaco Claudio De Collibus è in costante contatto con ASL e Prefettura per mantenere la sicurezza sul territorio comunale. Siamo abbastanza tranquilli in quanto io mi sento tutti i giorni o con la Prefettura o con l'ASL per cercare di monitorare il più possibile. Attualmente abbiamo solo 4 ragazzi in osservazione che scade il 30 luglio tra due giorni e non ci stanno problemi. Abbiamo fatto tutto ciò che era dovuto al Comune per quanto riguarda la raccolta dell'indifferenziato a parte, che è anche un costo per il Comune, però lo stiamo facendo ogni volta. Però pare che la situazione qua da noi è abbastanza tranquilla e spero che rimanga così. Io una cosa vi posso dire è che faccio il possibile per tenere tutto sotto controllo, fino a quando ci riesco. Noi dall'inizio ci siamo opposti, però purtroppo non è stato possibile fare diversamente in quanto la Prefettura ce l'ha messo come obbligo e tutti dovevamo prenderci una quota. Io ho saputo qualcosa in merito che entro la prossima settimana, massimo due settimane, molto probabilmente sarà accorpato al cassa di penne. Mi auguro per me che posso risolvere una situazione del genere per avere un po' più di tranquillità, perché sono sempre situazioni che purtroppo nei Paesi si parla, si parla e ogni minima cosa si attacca sempre il Sindaco. Spero di risolverlo il prima possibile.